Usciamo dai play-out, usciamo da questa zona e poi domenica affrontiamo ogni discorso legato al futuro. Il calcio è fatto di presente e quindi il presente o il futuro più lungo è quello a sette giorni o a tre giorni se si gioca un turno infrasettimanale. Quindi dobbiamo pensare a breve, dobbiamo pensare ad essere così come abbiamo visto la Scagliesi. Visto che tra poco si riaprirà anche il mercato, è presto per sapere quali saranno le strategie della società? La squadra verrà cambiata pochissimo, però è chiaro che è importante adesso rimanere compatti, qualcosa lo faremo, non ci sarà nessun direttore sportivo nuovo, continueremo così, probabilmente potrebbe esserci qualche consulente tecnico oppure qualche agente che aiuti la società a fare qualche ritocco necessario per affrontare con la stessa vivacità tutta la stagione. L'ultima, Presidente, per come sta andando è stata giusta la mossa di insistere, di dare fiducia a Giampaolo? Il mister aveva la fiducia anche quando le cose andavano malissimo, non che oggi io sia contento della situazione di classifica, ma vedo che c'è una certa squadra che ha ripreso ad essere la squadra che mi aspettavo e quindi sono convinto che questa è la mano del mister.